buongiorno adesso ci vediamo il brasiliano in una versione un po catafratta per la brava serata che ha passato qualcuno lo definisce incastrato lui dice che aveva bevuto ma solo in alato a voi giudizio e a voi firmato che viene stava da velle di barrage ad avviterbo ma vederbo gli ultrati dove sono gli ultrati ma ci stanno in case popolari c'è sta niente avviterbo chi c'è sta tutti i cani avviterbo stanno i cani sa non dire cane si non ce l'ha nel sacco sto a viterbo damo una via una cosa i ragazzi facciamoni qui chi si sente chi si sente toccato siamo forestieri mi guardia via proprio faccio della gelateria dai così venite tutti qua non dire gelateria si fa la spia e si fa la spia non sei figlio di maria babbo mamma mi raccomando non ci è andata a casa troverete delle sorprese solo ci vengono i guardi allora via cattaneo cattaneo ma non faceva il giornalista cattaneo viterbo male male ma come viterbo male male viterbo ambriagone non ho bevuto fratelli dedica la verità ho soltanto inalato c'è posta pappa mamma mi dico fermate io io e il nostro amico cazzo farei in maracanacqua stamattina non ce la faccio più allora scorda come stavo ho fatto intervenire perché tu mi devi vendere le lenzuola sto con una telatina mi ha detto io sono una dipendente mamma non è un bianco poi te la faccio vedere aspetta poi te la faccio vedere guarda qua allora guarda però fratello voglio fare una cosa guarda un bianco ma venite tu guarda qua te giulia vabbè di gente strana dammi i soldi prendi i bianchi ma io con te lo faccio io il lavoro fratello spaccate la boccia io ho dovuto fare ho dovuto vedere un lavoro fratello allora valla fede più la vai pensavo che eri tu ma non so valla fede più la vai ma non so valla fede più la ciao valla fede più la perchè ti stai così oggi ma ti abbia tutta maravilla brasilia eppure sei bravo perché ho fatto lascia perdere brasilia che te frega che cosa guarda qua guarda casa tua nuova brasilia guarda casa tua nuova guarda Grazie a tutti